La Sexta Come vive le critiche che sta ricevendo Karim negli ultimi giorni? Le sembrano giuste le critiche ricevute da Benzema negli ultimi giorni? Ognuno ovviamente ha il diritto di avere la sua opinione Io lo vedo molto concentrato, si impegna moltissimo Ovviamente si può sempre chiedere di più a un giocatore come Karim Ma vi posso assicurare che lui si impegna moltissimo E sono contento di come sta lavorando Che è la cosa più importante Salve mister, sono di Movistar Plus Una domanda su Bail È pronto per la convocazione? Verrà convocato? Quanto ti è mancato Bail come allenatore negli ultimi mesi? È tornato in gruppo da una settimana Si è allenato due volte con il resto della squadra Sta bene fisicamente Ha recuperato completamente Non ha nessun fastidio, nessun disturbo Che è la cosa più importante E vedrai se verrà convocato o meno Questo fine settimana Vedrai Ma sì Ha recuperato perfettamente E ha a disposizione della squadra Che è la cosa più importante Ha trascorso quasi tre mesi Lontano dai campi da gioco Bisogna procedere con attenzione Ciao Zizou Il Real Madrid Segna da 40 partite consecutive Nella Champions La cosa importante Forse è invece non subire gol Cosa ne pensa? Nelle fasi eliminatorie è sempre così Perché si sa ovviamente che va giocato una partita di ritorno Ed è importante quando si gioca in casa Mantenere la porta inviolata Ovviamente Per noi è importante assicurarci di non concedere gol domani Ma ancora più importante È concentrarsi sulla partita di domani Essere consapevoli di cosa siamo stati capaci di ottenere Nell'ultimo periodo La partita di domani È una partita da 50-50 Ecco La prima partita la giocheremo a casa Sappiamo che il nostro avversario è forte Che ci potrà mettere in difficoltà E quindi dovremmo essere concentrati Ma siamo pronti per giocare per la partita di domani Questa è la cosa importante Volevo chiederle Se il coraggio di allenatori come Sarri o Massimiliano Allegri Alla Juventus stanno avvicinando Come modo, come filosofia di gioco O come novità tattiche Il calcio italiano al calcio europeo E se posso un brevissimo giudizio Su Maurizio Sarri Un suo giudizio personale Visto un allenatore che due anni fa allenava l'Empoli Lottava per la salvezza Adesso si prepara a entrare al Santiago Bernabeu Grazie Beh, tu hai detto nella tua domanda Io penso che lo sta facendo bene Lo sta facendo bene Su un allenatore che gioca Che fa giocare il suo equipo Che gioca benissimo E ultimamente quello risultato che hanno fatto Non è Io credo che Sicuramente che lui Scusa per l'italiano Tanto se è una mescla Che lo sta facendo bene E che Vendo A quest'equipo Jugando Anche perché ci sono Oggi Oggi ci sono tanti giocatori giovani In Italia Che sono Che sono bravi Sono giovani Come le posso trovare Tu qua In Spagna E quindi questo Sicuramente Che farà bene Per il calcio italiano Ciao Zinedine Sono Jaime Rodriguez Del Mundo Come ti ha ricordato il mio compagno Prima nessun campione d'Europa Ha vinto la Champions Per due anni di fila Ora Non so se per voi Questo è un obiettivo Non so se ci state pensando Visto Che la fase eliminatoria È appena Cominciata Ma tu Hai giocato la Champions Sia da giocatore Che da allenatore Dov'è la maledizione Perché è così difficile Vincere la Champions Due anni di fila Ottima domanda La Champions È una competizione Molto difficile Vincere una partita Importante Nella fase eliminatoria Ti fa pensare Alle volte Che Magari Puoi vincere La competizione Ma Non è così Insomma Non dovrebbe essere così Bisogna pensare Partita Dopo partita Ogni squadra Chiaramente Vuole vincere La Champions Ma è un percorso Duro Lungo E È un Un percorso Che Noi stiamo Percorrendo Appunto Posso dirti Che noi stiamo bene Come squadra Ho tanti giocatori A mia disposizione Ed è difficile Scegliere chi Convocare Ma siamo tutti Pronti Per Giocare ancora una volta Questa fantastica competizione La Champions Ciao Ciao Zinedine La partita di domani Sarà la Prima grande Finale Della squadra Di Zinedine Zidane No Non è una finale È una partita È una partita Di Champions Molto importante Sappiamo Quanto è importante È una competizione Ovviamente In cui vogliamo Far bene Ma nient'altro Non è una finale La finale A Cardiff Abbiamo due partite La prima è domani Abbiamo una partita Di ritorno Si tratta di Eliminatoria Dovremmo Essere Sempre concentrati Perché il nostro avversario È molto Molto Bravo Gioca molto bene E sappiamo che ci può mettere In difficoltà E Siamo Molto Contenti Di avere Quest'opportunità Di poter giocare Questa splendida partita Domani Ciao mister Sono qui Vengo da Televisione spagnola Differentemente Dall'anno Scorso Questa volta Giocherete È la prima partita In casa Non la seconda Che differenze Ci saranno Quindi Altra domanda Su Tony Cross Sappiamo che Tony sta bene Che non ha problemi fisici Ma è da circa Tre settimane Che non gioca Come mai? No È una questione Di testa Di mentalità È una questione Di voglia Noi Vogliamo vincere Questa competizione Nient'altro Sappiamo che Domani Se vogliamo vincere Dovremo Darci dentro E lavorare Sodo Per quanto riguarda Tony Cross Come hai detto tu La settimana scorsa Non ha giocato Ma è pronto È pronto perché è forte E perché ha esperienza Ripeto Ho 24 Giocatori A mia disposizione Incluso Gareth Questa è la grande Novità La Grande notizia Che abbiamo Un tante Per la Erenzi Ciao Zinzin Filippo Ricci La Gazzetta dello Sport Una domanda Sull'eredità italiana Tu hai giocato Nella nostra Lega Nella Serie A Hai lavorato Con allenatori italiani Ti volevo chiedere Cos'è che t'ha lasciato Questa esperienza Come diceva Luca Prima Luca ha detto Prima Che Giocando a Real Madrid È cresciuto Come calciatore E come uomo Come persona Io Non ricordo Quante anni avevo Quando sono andato In Italia Ma posso dirti Che in Italia Sono cresciuto molto Come calciatore Alla Juve Così come al Madrid La cosa più importante È Metterci la faccia Sempre Fino all'ultimo minuto E quindi Ho imparato Molto Con la Juve Ora Sono parte Del club Più importante Del mondo Il Madrid Siamo parte Siamo parte Della storia Sto crescendo Come Persona E adesso Anche come Allenatore Ciao Zinedine Eleonora Giovito Del Paese Ti volevo chiedere La Champions Potrebbe fungere Da medicina Per Benzema Per rispondere A tutte le critiche Che ha ricevuto Non so che dirti Lui sta bene Poi si può dire Quello che si vuole Voi siete qua Per Scrivere Per esprimere La vostra opinione Ma Io Lo vedo bene Molto concentrato Si impegna molto Ovviamente Mi piacerebbe Che segnasse Domani E basta Non solo io E non piacerebbe Solo a me Tuno Napoli Temi di più Un attacco del Napoli Composto da Insigne Mertens E Cagliecon Oppure la presenza Di Diego Armando Maradona A supporto Della squadra No Con tutto Con tutto Rispetto A Maradona Che Che io Lo veia Quando tenia 14 anni Che bueno Con tutto il rispetto Per Maradona Come ha detto Anche Luca Come pensiamo In molti Maradona So insomma Che è stato Uno dei migliori Calciatori E la storia Del calcio Ma ho più paura Di quelli Che sono in campo Di quelli Che sono fuori dal campo Come Diego Perché Saranno loro A giocare domani Allo stesso tempo Noi abbiamo Delle armi A nostra disposizione Sarà una buona partita È quello che mi aspetto Dei miei giocatori domani Salve Sono Di Marca Quale è la cosa Che più La preoccupa Mister del Napoli È la velocità La Capacità Di finalizzazione E Quale È il vantaggio Che lei crede Abbia il Madrid Nei confronti del Napoli Potrebbe trattarsi Per esempio Dell'esperienza Del Madrid Sono tutte cose Che si pensano Prima della partita Certo Ma dopo Una volta che la partita è iniziata Non si pensa più a queste cose Come hai detto Il Napoli ha dei giocatori Molto buoni Là davanti Giocatori molto mobili Che giocano con grande intensità Con grande mobilità Con grande rapidità Giocatori fra l'altro Piccolini Così per dire Che è una caratteristica Che a me non piace Ma che sono tecnicamente Molto forti Come ti dicevo Anche noi abbiamo Delle armi Dei mezzi Per far male all'avversario E si vedrà domani Ciao Zinidin Sono di Onda Zero Anni fa in pochi Credevano che avreste vinto La Coppa Europea La Coppa d'Europa La Champions Alla fine l'avete vinta Quest'anno siete i favoriti Qual è lo scenario Che preferisci? Quello della stagione scorsa O quello di quest'anno? No, per me è lo stesso Il Real Sarà sempre Fra i favoriti In questa competizione Poi ovviamente Non è Lo stemma Di una squadra A garantire i risultati Noi come squadra Dobbiamo lavorare Dobbiamo impegnarci Perché il percorso Il cammino Fino alla vittoria È molto molto lungo E lo sappiamo Poi ciascuno Chiaramente pensa Quello che vuole Si parla di favoriti Meno favoriti E così via Noi da parte nostra Sappiamo che Lottando possiamo vincere Questo è uno dei valori fondanti Del Real Madrid Lottare dall'inizio Alla fine Assieme ai nostri fan Con la nostra gente Che ci ama E basta Ciao mister Sono del Ciringuito Una domanda su Benzema Dal punto di vista Però personale Non di calciatore Karim ha detto Molte volte Che lei Per lui È come un fratello Maggiore Come persone Non come allenatore Mister Le dispiace Che si critichi Così tanto Benzema Certo Mi dispiace Che si critichi Karim Come mi dispiace Che si critichi Uno qualunque Dei miei giocatori Ma i miei giocatori Sanno che le critiche Fanno parte del calcio Alle volte Anzi le critiche Fanno addirittura Addirittura bene Perché servono a crescere E Karim È uguale A tutti gli altri A me Fa sempre male Mi dispiace Sempre quando si parla male Di tutti i miei giocatori Ciao Zinedine Hai parlato prima Di alcuni giocatori Del Napoli Delle ali del Napoli Che sono leggere E rapide E veloci Il Napoli Ho avuto alcuni Problemi In retroguardia Quando giocava Con squadre veloci Ultimamente Tu Vorrai puntare Credi Sulla velocità E sulla profondità Per sconfiggere il Napoli Come ho detto prima Il Napoli gioca Ad alti ritmi E ha giocatori Molto rapidi Beh Come possiamo Impedire Che ci Mettano sotto Concentrandosi Concentrandoci Sappiamo che soffriremo In certi momenti Della partita Sappiamo che non Dobbiamo trovarci esposti Ai loro contropiedi E dobbiamo essere Concentrati E cercare di far sì Che il Napoli Attacchi il meno possibile Ancora Cosa ancora più importante Dobbiamo pensare Anche a quello Che dobbiamo fare noi Ciao mister Sono Della televisione De Colombia Mister o professore Come diciamo In Sud America Oggi abbiamo visto James Rodriguez Molto motivato In allenamento Nel sistema Che lei ha pianificato Per domani In che modo Può andarsi A inserire James James verrà convocato E pronto per giocare Domani vedremo Chi schierare Ma Ti posso dire Che James È concentrato Quanto tutti gli altri giocatori Purtroppo però Non ti posso dare Dettagli specifici Sull'undici Salve Zizou Sono della UEFA Il Madrid Ultimamente ha giocato Con vari sistemi Domani Che Madrid Vedremo Quello classico Del 4-3-3 Buona domanda Vedrai domani Mi dispiace Mi dispiace Perché so che Hai aspettato 10 minuti Perché ti venisse Data la possibilità Di porre la tua domanda E poi ti rispondo così Ma vedrai domani Ultima domanda In francese Sono dell'Equipe RMC Vorrei farti Una Domanda Sul Rapporto Tecnico Che esiste Fra Cristiano Ronaldo E Benzema Sabato Hanno giocato Molto bene Assieme In che modo Mister Può spiegarci La sinergia Che hanno Questi Due giocatori E come Crede Che questo Potrà aiutare La squadra Il fatto che I due giocatori Si intendano Così bene Inoltre Lei come Allenatore Si sente soddisfatto Del rapporto Che esiste Fra questi due Giocatori E soprattutto Lei come Allenatore In generale Come si sente? Beh io mi sento bene Sento di essere migliorato Come allenatore Ovviamente voglio continuare a migliorare Per rispondere invece alla sua prima domanda L'intesa Fra Karim E Cristiano È un grande vantaggio Per noi È molto importante Soprattutto Visto che abbiamo Tre giocatori Là davanti È importante L'intesa Fra di loro Perché Così facendo Possiamo Finalizzare Con più facilità Con più efficacia Karim Aiuta Gli altri giocatori A segnare Ovviamente È importante Che segni anche Karim Ma vorrei Sottolineare Anche Il fatto Che è parecchio Importante Che Karim Renda migliori I giocatori Attorno a lui Questa è una cosa Molto importante Ed è un aspetto Che mi interessa Moltissimo di Karim Parlando invece Di Cristiano Lo conosciamo tutti Molto bene Sappiamo tutti Qual è il contributo Che lui può dare E sappiamo tutti Che l'intesa Fra lui e Karim È molto buona Grazie mille Grazie mille